Quali sono le aspettative per il festival di quest'anno? Saranno maggiori rispetto a quelle della nostra? Ma è normale, ogni anno c'è sempre un'aspettativa più alta, quindi i titoli di quest'anno sono straordinari, abbiamo bellissimi film che arrivano, come avete sentito, da tutte le parti del mondo, non abbiamo film italiani in concorso, c'è solo un film italiano che è l'anteprima di Fausto Brizzi, c'è l'anteprima di un grande film americano con Sara Jessica Parker, Raul Bova, Claudia Cardinale, il presidente di giuria Gabriele Muccino con altri giurati straordinari, quindi abbiamo tutti gli ingredienti per invitare gli amici di Bordighera e dintorni che vengano qui a vedere il film al teatro De Mariette, tutti i giorni c'è un film al mattino, uno al primo pomeriggio e uno alla sera e poi alla gran finale che sarà il 6 al Grimaldi Forum dove faremo il gala A con la consegna dei premi e quindi mi auguro che veniate numerosi, sarà una serata bellissima. Grazie. Prego a voi, ciao, viva Bordighera. Grazie. 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 Grazie.